Mi chiamo Elisa e sono italiana. È il mio terzo anno qui in Irlanda e il mio insegnante si chiama Andrew. È un insegnante praticamente perfetto perché trova tantissimi modi per cercare di farci comunque imparare e farci imparare tantissime parole nuove, anche attraverso qualche gioco. Quindi quella è la cosa più importante di tutte, comunque, cercare i modi per trovare, di avere il contatto con i ragazzi. Io abito comunque in Parkland, che è praticamente una zona in cui ci sono tutte e quante delle simili per le taschiera e sono fatte così bene quasi da farti sentire a casa. Le attività sono diverse tutte quante una dall'altra e c'è quindi una varietà assoluta e si può fare tutto. Questo qui, essendo il mio terzo anno a Irlanda, è evidente che l'uomo veramente tanto come città a Irlanda. È una città bellissima dove fare questa attività diventa molto divertente. Grazie.